Si è parlato del futuro della cultura italiana, del futuro dei siti UNESCO oggi nel Consiglio Direttivo dell'Associazione Città e Siti Italiani del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, presieduta dal Sindaco di Assisi Claudio Ricci. Siamo con il Sindaco Claudio Ricci oggi in veste di Presidente. Sì, le 44 città e siti italiani dichiarati dall'UNESCO Patrimonio di tutta l'umanità sono le punte di eccellenza del patrimonio culturale e ambientale italiano anche per la rappresentatività del nostro Paese all'estero in chiave sia culturale che turistica. Le nostre numerose attività si fondano su tre filoni principali. Il primo è la ricerca di risorse attraverso la legge 77-2006 ma anche attraverso fondi europei da destinare ai siti italiani Patrimonio Mondiale UNESCO. Il secondo filone sono programmi appunto per la valorizzazione culturale e turistica. Il terzo ambito dei nostri interventi è il comparto educativo per la trasmissione alle future generazioni dei valori legati ai beni culturali e ambientali ma anche per sollecitare le persone che abitano nei siti ad acquisire la consapevolezza che si trovano in un patrimonio che appartiene a loro ma anche appartiene a tutta l'umanità. Ed in merito a questo patrimonio che spesso è locale e poi mondiale ha parlato nel corso dell'incontro con le città gemellate di Betlemme anche del valore da tramandare attraverso l'UNESCO del presepe, un'iniziativa nuova. Il presepe è tra le candidature per la lista del patrimonio immateriale. Dal prossimo anno questa lista si attiverà, oltre alla lista dei beni materiali, culturali e ambientali che nasce a Parigi nell'anno 1972, dal prossimo anno si attiverà definitivamente la lista dei patrimoni immateriali, orali e intangibili. L'UNESCO quindi ha voluto sottolineare che questo patrimonio immateriale legato a feste, tradizioni, a tradizioni orale è altrettanto importante del patrimonio materiale e quindi merita di grande attenzione. Noi peraltro abbiamo già due siti già inseriti in Italia che è il canto a tenore sardo e l'opera dei pupi siciliani e vi sono molte candidature che mi auguro potranno trovare attenzione dal prossimo anno a partire appunto dal presepe con i valori culturali, spirituali e la tradizione artistica. Sono quattro le città legate a questa candidatura a Sisi, Greccio, luogo di nascita del presepe, Napoli e Betlemme. E chissà che per questo ruolo centrale di Assisi nelle candidature UNESCO non sia possibile, magari insieme ad Assisi Channel, un viaggio attraverso i nostri grandi tesori. Per la verità quello di attivare una web tv e anche una rete televisiva satellitare dal titolo Siti UNESCO Channel, anche coinvolgendo la sede UNESCO di Parigi, è uno dei programmi che stiamo cercando di realizzare. Vale a dire la cultura è cultura anche e soprattutto se veicolata. Comunicare e soprattutto la comunicazione che significa poi nella sua etimologia del termine condividere è uno degli elementi più importanti. Credo che spesso si parla dell'importanza dell'informatica, di insegnare ai nostri ragazzi dell'inglese. Mi sembra che sia arrivato il momento anche di curare molto la capacità di comunicare, perché poi sapere ma non saper comunicare è come non sapere. Siamo con Bruno De Luca, sindaco di Alberobello e d'Assisi, due città apparentemente molto lontane ma unite dal grande patrimonio UNESCO. Ci parli del patrimonio del suo comune? Alberobello è una città che non ha la storia di Assisi sicuramente, risale ad appena cinque secoli fa. Nel 1400, nel XV secolo, era ancora il nostro territorio ricoperto da una grande foresta di querce, che si chiamava, diciamo che questo toponimo si ritrova per la prima volta in un documento ufficiale medievale, silva autnemus arboris belli, silva o bosco dell'albero della guerra, perché l'etimologia del nome della nostra città è albero della guerra, nel senso di bellum belli latino, insomma. Quindi, diciamo, è una città completamente diversa da Assisi. Ovviamente la caratteristica particolare sono queste costruzioni che sono uniche, i trulli, i famosi trulli, che erano completamente costruiti a secco, senza fondamenta, con queste chiancarelle sovrapposte, giuste apposte una sull'altra, a forma di cono, di cui si ha traccia nell'area del Mediterraneo, anche in tempi antichissimi. Probabilmente, diciamo, la prima costruzione a forma di trullo dell'antichità è la tolos di Atreo a Micene, la tomba, insomma, del mitico Atreo. E quindi, poi queste costruzioni che nacquero praticamente come costruzioni abusive per conto del conte di Conversano, che era il feudatario di quella zona, ed erano costruite completamente a secco, perché in caso di ispezione da parte del re di Napoli, degli ispettori fiscali, bisognava buttarle giù perché non dovevano comparire affinché appunto il conte di Conversano non pagasse queste tasse, una sorta di evasione fiscale antelitteram, diciamo, da parte non dei cittadini ma ovviamente dei baroni dei conti dell'epoca. Uno straordinario spezzato di cultura del suo comune, della sua regione, ma oggi parlerete del futuro dei siti UNESCO. Che cosa si aspetta da questo direttivo? Noi ci aspettiamo, innanzitutto, che parleremo della legge 77, che è una legge importante per noi, per i siti UNESCO d'Italia, perché finanzia risorse, mette a disposizione risorse per progetti presentati appunto dai comuni, dai siti UNESCO italiani. Noi chiediamo che queste risorse siano ancora di più potenziate e che si abbia soprattutto la possibilità non soltanto di finanziare progetti, ma anche di finanziare opere di recupero, di restauro e di valorizzazione, perché credo che i siti UNESCO in Italia rappresentano l'eccellenza del nostro Paese nel mondo intero.